buonasera buonasera a tutti bentrovati a questo appuntamento con gli scrittori il primo di una lunga serie di appuntamenti con gli scrittori oggi ho il piacere di avere qui una mia vecchia conoscenza che appunto come si dice apre le danze e quindi io do il benvenuto a federico motta che è uno scrittore molto molto bravo che oggi ci parlerà un po della sua esperienza appunto con le case editrici con la sua esperienza durante durante la stesura del romanzo insomma delle sue letture di tutto ma soprattutto di una cosa in particolare che è le ombre del crepuscolo giusto yes quindi ti lascerai la parola se vuoi presentarti allora io sostanzialmente appunto come hai ben detto tu sono alla mia prima esperienza di pubblicazione è il mio primo libro per il resto io nella vita sto ancora cercando di trovare la mia quadra e ho fatto ho lavorato sia nel supporto tecnico a livello di it sia comunque nel nell'editing in tutto quello che riguarda diciamo la scrittura e ho anche scritto per una per un piccolo quotidiano degli alpini e tra l'altro collaborazione che continua tutt'oggi proprio perché mi è sempre piaciuto avere a che fare con diversi diversi campi e visto che la scrittura è sempre stato quello su cui sono stato più sicuro in me stesso diciamo ho voluto metterla frutto anche in diverse cose noterai anche appunto che la scelta della della raccolta di racconti è sia un modo per buttare giù delle storie che mi girano nella testa perché spesso e volentieri ne creo così tante che si si mettono tutti insieme esatto esatto e dovevo trovare un modo per fare in modo che diventassero qualcos'altro che non restassero soltanto lì nell'aria e basta creando un po delle immagini non so se succede anche a te ma tipo quando ascolti musica eccetera che ti si creano delle piccole storie e io ne ho scelte alcune ho detto cavolo queste mi sembrano super fighe le voglio mettere giù e le voglio proprio proprio dargli vita in vero senso della parola no che poi è una scelta comunque coraggiosa quella di uscire con una raccolta di racconti poi adesso entriamo un pochettino più nel dettaglio però di solito appunto gli autori scelgono di uscire con un romanzo o si associano ad altri scrittori per far uscire tutti insieme una raccolta di racconti però questa è solo la tua sì 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 l'ho proprio scritta io pensata messa giù eccetera e ho mandato la proposta alle case editrici e ti dirò il fatto è che mi è venuto naturale anche perché oltre alla scrittura l'altra mia passione più grande è quella del cinema e della tv in generale e mi è sembrato naturale il fatto di proporre qualcosa che vista che l'attenzione media ultimamente è più bassa rispetto a qualche anno fa mi è venuto in mente che un buon modo per iniziare e esaggiare diciamo il mio modo di scrivere la mia capacità di mettere giù una storia era proprio quello di creare appunto come una serie antologica quindi ogni storia a sé stante e ognuna di argomento e di genere diverso certo che è molto difficile in realtà perché poi dopo uno tocca vari generi deve comunque però riuscire a spaziare nello stile nel tutto insomma non solo nella trama è molto interessante e appunto se vuoi raccontarci un pochettino iniziamo insomma da le ombre del crepuscolo che è di pav edizioni giusto yes sì 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 pav edizioni che è una piccola casetta editrice di roma che io ringrazio molto perché sono sempre pronti a dare possibilità a autori giovani autori mai pubblicati eccetera che è una cosa che tutt'oggi le case editrici fanno un po fatica a fare e loro invece sono stati fin da subito molto recettivi mi hanno risposto subito alle mail quando li ho contattati la prima volta dopo un paio di mesi mi hanno mi hanno mandato il contratto eccetera sono stati molto carini anche appunto se era la mia la mia primissima volta eccetera e senza dire altri nomi però case molto più grandi non c'è non fanno neanche la il verso di risponderti per dire si è più grandi intanto io saluto tutte le persone che si stanno collegando e appunto no case editrici molto grandi hanno molti romanzi da analizzare insomma da esaminare quindi è vero che gli autori soprattutto appunto quelli emergenti vengono un po vengono considerati meno e in effetti non c'è sempre questa risposta che uno si aspetta poi certo ma poi c'è anche un no in realtà esatto c'è proprio neanche un una prima un primo contatto comunque per ritornare all'argomento le ombre del crepuscolo è questa raccolta di racconti appunto sono dieci racconti antologici accumunati da un mood dark diciamo da un'ambientazione realistica ma con degli elementi grotteschi o fantastici che siano e per quello che dicevi prima del buttarsi in cose che è difficile che escono molto dalla propria comfort zone posso citare sicuramente il fatto che ci ho voluto aggiungere un racconto che era una fiaba e che è forse la cosa più lontana da me che ci sia però mi son detto è sì c'è proprio uno di quei generi che non mi sarebbe mai venuto in mente invece ho avuto quest'idea l'ho buttata giù e ho creato una favola a modo mio diciamo ovviamente certo e perché è destinata questa raccolta di racconti per un pubblico adulto allora sicuramente sicuramente il pubblico è abbastanza adulto cioè ora come ora secondo me la fascia di pubblico si è un po' ampliata per quanto se ci si rivolge a un pubblico adulto adesso è un pochino più ampia la definizione comunque direi anche adolescenziale come 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 target però comunque sì cioè è una non mi sono non mi sono limitato nel nel dark nel nell'ambientazione cupa nelle anche nelle nel cinismo diciamo che ci ho messo nel nello scrivere perché comunque volevo che fosse qualcosa che avesse il mio timbro e che avesse proprio che mi facesse sentire bene scriverlo anche da questo punto di vista è stato anche un po di autoterapia possiamo dire certo no è bellissimo ne parli molto cioè si vede proprio che l'hai scritto con piacere quindi è qualcosa che non deve mai mancare altrimenti che senso ha poi scrivere poi no 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 in generale ma soprattutto uno scrittore emergente o uno scrittore insomma che proprio agli inizi deve avere il piacere di scrivere altrimenti col cavolo che va avanti insomma perché comunque è un mestiere eh molto eh impegnativo cioè scrivere impegna moltissimo non solamente a livello di di stesura adesso non so se anche la tua esperienza però io partirei mentre appunto esploriamo un po la trama un pochettino di 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 sinossi e tutto quanto se vuoi buttarci dentro anche magari eh il momento in cui eh ti è piaciuto di più eh realizzare questa questa raccolta di racconti è il momento peggiore della tesura o anche della della pubblicazione insomma quello che vuoi tu guarda allora io ti dirò posso già citarti il momento peggio allora uno dei momenti peggiori sicuramente è quando prendi cioè non quando prendi i primi no ma quando prendi quando capisci che la richiesta è andata un po nel vuoto diciamo quando sono tre quattro mesi che hai mandato una cosa non c'è neanche un accenno di risposta inizia a dirti ok sì forse questo è già una risposta di per sé e quello è abbastanza dura alla prima volta però eh come tutti ho cioè come tutti ti diranno e come io sostengo anche è un mestiere in cui ti devi preparare a sentire una quantità di no e di porte in faccia incredibile e fa parte del gioco cioè sostanzialmente fa parte del gioco noi lo facciamo perlomeno io parlo per me io lo faccio sia perché è una cosa che mi aiuta sia perché è una cosa che penso di saper fare bene e sia anche perché comunque eh io penso che dobbiamo lasciare comunque un segno nel mondo in un modo o nell'altro c'è chi lo c'è chi ce l'ha questa cosa magari nel suo lavoro eh creando una famiglia eh qualsiasi cosa può essere un segno nostro nel mondo nel mio caso era il fatto di lasciare qualcosa di scritto che rimanesse certo certo ma bellissimo come come proposito come scopo diciamo Stefano dice a volte anche un le faremo sapere ti danno no in effetti no la maggior parte diciamo che di norma purtroppo almeno in base alla mia esperienza eh no se è un no semplicemente non ti rispondono esatto sì 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 mi è successo forse una volta forse una volta una casa editrice mi ha risposto e mi ha detto guardi grazie mille dell'offerta ma non siamo interessati e sinceramente cioè è stato molto più rincuorante il sentire quello piuttosto che il nulla assoluto eh sì di solito appunto i tempi di attesa sono molto molto ampi e alla fine si risolve con un comunque c'è scritto di solito nei vari siti delle varie case editrici eh come mandare il romanzo e tutto quanto e poi dopo c'è scritto insomma tempi di attesa tre sei mesi e dopo al settimo mese uno comincia a farsi delle domande all'ottavo inizia a piangere allora uno se ne fa una ragione e basta una ragione si va avanti insomma sì 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 no assolutamente ma e invece per quanto riguarda il momento più bello secondo me è sono le recensioni cioè a me piace davvero tanto quando le persone mi dicono ah sai io ho letto questa ho letto la tua storia ma a parte il bella non è bella a me piace molto quando la gente mi fa domande su quello che ho scritto ma questa cosa la intendevi così questo personaggio secondo me è così che la pensava ma è vero non è vero cioè quello mi appassiona un sacco cioè una roba bellissima perché ti dà l'impressione che uno insomma proprio l'ha letto ma non è che l'ha letto così tanto per l'ha letto e la lo sta proprio cercando sta cercando di indagare sta cercando un po di capire di dare la sua interpretazione quindi è sicuramente molto gratificante per un autore sì 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 un sacco un sacco ma è proprio cioè per quanto mi riguarda proprio l'idea di aver preso la giornata di una persona e di essere entra ed esserci entrato per quel quell'oretta quel 25 minuti che ha dedicato alla mia storia mi rende super contento c'è proprio una roba bella da da provare secondo me e quindi c'è quando butti giù cioè io allora io di mio faccio già le notte le ore piccole sono sempre stato così ho sempre scritto di notte sostanzialmente sono proprio uno di quelli che finisce la giornata si guarda qualcosa in televisione poi bam intanto o mentre si guarda qualcosa inizia a scrivere e ho cioè io ho proprio passato delle notti a pensare ah ma questa cosa qua questo personaggio io lo intendo così però le persone potrebbero chiedermi questa cosa qua perché è tutta una serie di di astrologie allucinanti a parte anche tu del clan dei gufi anch'io ne faccio parte infatti si vede dalle di solito sono le occhiaie io ho questi perché non ci vedono il colorito insomma questi semi caratteristici che uno scrittore dice subito anche tu eh sì 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 ma il pallore il pallore è regale il pallore è regale alla vampiri de masquerade esatto che tra l'altro non si non si vede ma è qua è qua il manuale di vampiri e tu sei anche un giocatore sì 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 assolutamente assolutamente anzi anzi penso che il fatto di essere diventato un giocatore di ruolo sia uno dei motivi per cui sono diventato uno scrittore e perché cioè io penso che il gioco di ruolo sia una delle cose più più vicine alla scrittura che esistano cioè secondo me tutti coloro che possono che sono dei bravi giocatori di ruolo potrebbero nel tempo diventare buoni scrittori bravi scrittori perché creare una storia ma anche anche non solo i master perché io per esempio non non sono un gran master non non mi appassiona particolarmente mi piace molto di più giocarle da da giocatore forse anche perché appunto le storie ne scrivo già troppe normalmente quindi non ho voglia di mettermici ancora anche se so che perché per te non è il che per te il contrario è no guarda che abbiamo più o meno un background simile perché l'età della polvere l'età della polvere io ero giocatrice ah eri giocatrice sì 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 che bello però una delle pochissime volte in cui sono in cui ero giocatrice perché di solito io sono faccio da master da master sì 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 però in quel caso lì anche io ero giocatrice quindi vedi che abbiamo un background in comune con il sei giocatore e poi ma no è vero hai ragione cioè sono perfettamente d'accordo sul vabbè lo sai ed è abbastanza palese direi di sì direi di sì no comunque sì cioè anche perché giocando ai giochi di ruolo eccetera ho avuto ho iniziato ad avere diciamo a avere conoscenza di cose che magari non non avrei mai toccato altrimenti è già tipo per dire lovecraft cioè lovecraft ho iniziato a avere un sentore di quando ho iniziato a giocare di ruolo anche se non ho giocato tantissimo eccetera però comunque l'ambiente le cose eccetera ha iniziato a uscire fuori un sacco di informazioni e ci sono appassionato un sacco a queste cose guarda qui c'è Danny che ci scrive prima molti autori anche intervistati su questi schermi hanno detto la stessa cosa bisogna non mollare questo era l'editore e poi dopo aggiunge che sul fatto che i giocatori possano tutti diventare scrittori non sono d'accordo perché comunque serve una certa capacità nella scrittura ma è verissimo che il gdr è una grande fonte di ispirazione sì allora io intendevo il fatto che ovviamente non si impara la l'attitudine alla scrittura però secondo me un po di manualità la si prende e si può diventare scrittori decenti anche senza avere il dono diciamo e il fatto di saper creare una storia da personaggio eccetera è una buona parte del lavoro di scrittore in realtà cioè caratterizzare bene un personaggio farlo interagire bene con altri personaggi e con il mondo in cui è ambientata la storia è l'essenza del gioco di ruolo ed è l'essenza anche del world building di uno scrittore quindi cioè sì non è vero che so fare bene il giocatore di dnd o di vampiri o di che altro quindi so fare bene lo scrittore però è un background che già ti porta a un buon livello secondo me è vero è vero per essere degli scrittori bisogna scrivere sì appunto bisogna scrivere bisogna leggere tra l'altro bisogna scrivere bisogna leggere grazie quindi tu non fai parte della categoria di persone che dicono non leggo perché altrimenti contamino il mio stile no allora io sono io sono particolare in questa cosa nel senso che a differenza del cinema in cui mi guardo quasi qualunque cosa tranne i musical maledetti musical e lo so sono fatto così per me sono proprio due cose distinte e il mio rapporto con la lettura è particolare perché io sono molto cioè sono molto selettivo nelle mie letture cioè non riesco a buttarmi in qualsiasi cosa trovi ma il fatto è che spesso e volentieri ho dei periodi interi in cui non leggo cose perché non riesco a trovarne cioè piuttosto mi mi rileggo roba che ho letto mille volte però finché non trovo quella lettura che mi dico in quel momento è giusta per me cioè piuttosto la lascio un po' andare però sì sono assolutamente convinto del fatto che serva tantissimo avere tanti 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 stimoli artisticamente parlando letture scritture film arte in generale qualsiasi cosa crea un background artistico che va a creare il tuo stile è vero perché comunque adesso parte di scherzi sì ci sono i libri che sicuramente vanno letti soprattutto se uno vuol fare lo scrittore ma uno scrittore può anche attingere da serie tv da film nel senso io ho un un'agenda dove appunto le varie battute o scene o anche inquadrature che mi piacciono di quella determinata serie a cui dopo poi dopo vado a ad attingere quando mi serve quando mi serve un'ispirazione ovviamente non a ricopiare ma a prendere ispirazione no 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 ma poi tra l'altro guarda io ti parlo da sceneggiatore perché facendo appunto anche lo sceneggiatore ovviamente a livelli ancora molto indipendenti eccetera però so benissimo qual è proprio la complessità del dello scrivere una sceneggiatura dello scrivere per per il cinema rispetto a quella appunto di scrivere sulla carta perché comunque la scrittura su carta ti dà una libertà d'azione incredibile cioè tu puoi letteralmente plasmare il pensiero invece per quanto riguarda la scrittura su a livello di sceneggiatura tu sei limitato a ciò che puoi far vedere cioè puoi far comprendere qualcosa però devi devi mostrarlo non puoi descriverlo perché cioè a meno che non sei tarantino che riesce a farti un discorso di 20 minuti sul sul massaggio ai piedi e restare comunque in carattere ok se no non ce la fai è vero è vero è vero è vero che condividiamo anche se non vorrei dire uno sfondone ma a te tarantino piace giusto mamma mia se mi piace siamo d'accordo anche su quello anche a me piace molto sì 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 sto recuperando un po' di commenti prima di insomma di parlare un po delle ombre sono con tutti gli anni che ho giocato e masterizzato se raggruppo tutto quello che ho scritto che ho in giro di scritto se smetto di recitare divento scrittore ok esatto mi chiede aggiunge dipende poi dal motivo per cui uno scrive se per esprimere qualcosa se per produrre dell'art o per fare la grana che porca miseria fare lo scrittore dove e quando no non penso che allora diciamo che do ragione a michele però appunto è difficile diventare ricchi facendo lo scrittore in italia secondo me secondo me la mia opinione se di vince se prendi dei soldi cioè se prendi tanti soldi a scrivere in italia vuol dire che prima hai creato la tua bambina è anche perché c'è molti parlano dei libri degli youtuber i libri degli streamer eccetera che poi la maggior parte sono scritti da ghostwriter cioè nel senso certo ma cioè a me sembra anche però a livello di ragionamento a me sembra anche molto cioè molto intuitiva come cosa cioè nel senso sono una casitrice grande ho bisogno di un prodotto che io possa vendere bene ma io sappia già di poter vendere bene quindi cioè certo non mi fa piacere che ci siano così tanti libri scritti da da streamer magari non mi non dico in generale però parlo di proprio di quei libri in cui è evidente che la cosa le cose da dire sono poche però penso comunque che è una casa editrice grande nel mondo in cui siamo cioè nell'italia in cui siamo a questo momento non si può permettere di buttarci dentro la qualunque perché non durerebbe niente esatto è uno dei motivi più dibattuti però siamo ancora d'accordo perché anche io penso che uno deve fare pace con il mercato editoriale nel senso che è così la casa editrice vende punta molto anche sui sui follower sul successo che una persona ha la casa editrice deve vendere quindi sarebbe bello dare sempre spazio insomma alle emergenti di qualità intendo sempre però bisogna essere realisti ok e purtroppo sì questo ci teniamo e questo cioè io ci tenevo a dirla questa cosa anche perché spesso e volentieri ultimamente il marketing fa tutto ma anche banalmente il self marketing fa tutto ed è una cosa su cui ancora io non ci ho fatto pace nel senso che io sono veramente terribile in queste cose non ho idea ogni volta che devo mettermi lì a pensare a come come faccio a che copia devo fare che è una battaglia incredibile e invece c'è gente che che c'è nato per farlo così voglio dire e tra l'altro io ti faccio un grande applauso in realtà perché sia le tue pagine social che su youtube eccetera tu hai una voglia incredibile io non so dove la trovi questa voglia di pubblicare tutti i giorni con cadenza regolare stupendo cioè veramente brava 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 grazie grazie a me piace in realtà io pubblico tanto di insomma di argomenti che mi interessano pubblico poco del mio libro perché io ho paura di dire romperò le scatole se ne farlo certo è un po' quella paura lì quindi io tocco argomenti generali di film di serie così eccetera eccetera che mi piacciono però sul libro è vero che anche io certe volte ho un po' lo scrupolo di dire però cavoli ne parlo sembra un po' e invece no è l'autopromozione quindi però se devo vendere bisogna fare anche quella bisogna fare anche quello con criterio con criterio certo certo cioè non bisogna spammarsi esatto esatto quello sì però esatto guarda michele ti dice certo che i gdr aiutano l'attitudine nelle iscrizioni dei dialoghi sì è vero michele tra l'altro un bravissimo giocatore con cui ho giocato poco tempo fa stefano invece dice credo che credo che sia che il giocatore di ruolo abbia l'attitudine giusta bisogna imparare a scrivere sì esatto bisogna sicuramente scrivere come stavamo dicendo prima se le vostre opere diventano un film una serie tv io come attore mi offro ok andrew andrew va bene i casting sono aperti bisogna vedere bisogna vedere anche perché io comunque esatto esatto anche perché ti dirò io comunque all'inizio quando butto giù un'idea è molto molto simile alla creazione di un soggetto per me cioè lo penso proprio così eccetera e infatti molti dei miei racconti hanno un taglio cinematografico perché banalmente è quello di cui mi occupo e quindi è normale che venga così però è una figata una figata guarda qui dice che vabbè stefano appunto si ricollega quello che hai detto prima dicendo io sto aspettando i seguiti del trono di spade non riesco a leggere altro non mi interessa nulla di nuovo sì guarda lo stiamo aspettando un po ma io sono dell'idea che non lo avremo eh no non lo so non da lui non da lui da lui esatto ora michele dice su quello è importante leggere non solo cose belle bravo giusto michele non solo cose belle ma anche cose brutte per la tecnica cioè cose da non fare è vero bravo sono d'accordo eh è importante leggere anche cose che non brutte nel senso cose che poi dopo uno si mette lì e dice questa cosa io non la farei non la farei così allora mi sa che ti vedo bloccato eh vede ci sono no no ci probabilmente sono io perché l'ultima in questi giorni la mia banda è terribile ok si sente sì sì ti sento ti sento ti sento bene adesso sì ok ok perfetto guarda Danny dice che mi state dicendo che fa vj giulia dell'elis non hanno davvero scritto i loro libri non lo so non lo posso garantire non lo so non ho questa certezza non lo so può darsi ma ti dirò guarda posso posso farti una una rivelazione che ho scoperto ultimamente che mi ha mi ha mandato ai matti questa cosa vai Bruno Vespa scrive i suoi libri questa cosa che mi ha mandato in crisi eh perché tu eri convinto che gli scrivesse un ghostwriter sì 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 cioè ma comunque cioè io dicevo che è impossibile uno che ha un ratio così alto di scrittura cioè veramente una roba improbabile invece cavolo cioè togli togliendo il personaggio togliendo le idee eccetera però un ratio di scrittura così alto è incredibile cioè una roba mai vista è vero è vero tra l'altro e tra l'altro mi mi fanno notare dalla regia che c'è il mio master in chat eh il master del 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 gruppo con cui con cui gioco più spesso e che se che se non lo saluto mi ammazza quindi ciao Nico allora lo salutiamo eh lo salutiamo sì 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 buon pomeriggio l'ho scritto prima tra l'altro ah ok Andrew mi dice che fa wolf dell'età della polvere ok va bene va bene ci sta ci sta molto 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 bello allora io tornerei a questo punto eh al al tuo alla tua raccoglia se vuoi dire qualcosa dimmi tu guarda perché avevamo avevamo ho preventivato una specie di di scaletta appunto per non perderci in chiacchiere ci siamo persi ci siamo persi in chiacchiere giustamente è giusto così quindi dimmi tu pure cosa di cosa vuoi parlare ci sta allora in realtà allora in realtà guarda io per quanto riguarda il libro eh ti direi semplicemente che appunto sono storie eh antologiche molto diverse tra di loro quindi ah ci sono proprio storie eh horror storie thriller storie pulp ehm ci sono di lunghezza diversa c'è una c'è una di loro che se non sbaglio è lunga cinque pagine e si va verso le venticinque trenta quindi cioè ho proprio messo il è un libro che se hai un momento di tempo per leggerlo eh puoi dedicarci quanto vuoi ti legge una storia breve una storia più lunga eccetera se te lo vuoi leggere tutto un fiato cioè puoi scegliere come come fa l'esperienza di questo libro diciamo e per quanto riguarda le le criticità che mi dicevi prima della della fase di scrittura io divido sempre eh la delle difficoltà a livello emotivo e pratico cioè a livello emotivo è sicuramente la scrittura la rilettura a caldo che da editor penso che tu sappia di cosa cosa intendo però cioè mi capita che io scrivo un botto ok mi metto lì scrivo veramente cioè magari dieci pagine in una giornata super super arrivata diciamo super super ispirata sì e arrivo alla fine che sono convinto di aver scritto una roba fantastica il giorno dopo mi rileggo e non no niente cioè veramente non salvo niente di quello che scrivo perché a caldo cioè è difficilissimo correggere se stessi cavoli sì è difficilissimo rispetto cioè quando leggi quando correggi gli altri comunque è molto più facile straniarsi è molto più facile essere oggettivi e soprattutto leggere ciò che c'è scritto e non ciò che è in mente perché quando scrivi tu rileggendo io veramente ho tantissime cose che devo cercare la parola perché per esempio gli avverbi e tutte quelle cose lì io non li vedo cioè letteralmente mi dico ah ok qua ci ho messo troppi avverbi dovevi ridurre un po ma li devo cercare perché sennò mi rileggo la frase dieci volte e non li trovo cioè è veramente una roba perché il tuo cervello particolare ha in testa l'immagine e quindi le parole sono un mezzo non è un autore ha in testa la sua storia non ha in testa le parole che utilizza secondo me cioè le ha in testa le parole quando deve fare la stesura ma poi quando la deve rileggere raccontare quando deve spiegarla ha in testa l'immagine non la frase il capitolo e tutto quanto sì quindi ecco sì invece con uno con un estraneo effettivamente tu hai quel mezzo cioè il libro la pagina le parole quindi tu ti devi attenere a quelle esatto esatto una gran fregatura una grandissima fregatura grande esatto però è così è così no 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 è vero è vero è vero è vero e invece appunto dal punto di vista pratico è quello che ti ho detto prima del dell'uscita dalla comfort zone cioè questo libro è stato per me un da un certo punto di vista restare proprio ancorato a quello che a me piace alle mie passioni eccetera e allo stesso tempo allontanarmi da quella da quel caldo da quel caldo abbraccio di cose a me vicine di cose che io sono abituato a scrivere eccetera e dire ok vediamo se sei in grado di creare qual un progetto più grande ho iniziato cioè io banalmente adesso sto scrivendo robe un pochino più lunghe qui romanzi roba un pochino più articolata e sto veramente sentendo la grande differenza che c'è dallo scrivere invece dei racconti focalizzati perché comunque le raccolte di racconti hanno questa cosa che i racconti sono pochi e in tot tempo in tot spazio tu devi descrivere una storia che deve prendere il lettore invece in un romanzo hai modo di dividere banalmente gli argomenti i personaggi le cose questo personaggio deve dire questa cosa però gliela posso far dire in tre punti diversi è più facile ce la si gioca meglio da un certo punto di vista ma il la la cosa positiva invece la cosa più utile è che non ti dimentichi cosa magari hai aggiunto in un certo punto del romanzo perché io sto scrivendo un fantasy adesso ed è veramente ho un sacco di appunti su ok hai messo questa cosa qua riferito a questo cioè veramente io non non l'avrei mai pensato invece effettivamente sì cioè fa la differenza no guarda infatti ti volevo chiedere appunto tu cosa consiglieresti a uno scrittore che è emergente allora abbiamo esatto perché sono veramente tante le cose allora abbiamo ribadito già il la questione delle porte in faccia io non voglio essere negativo però se uno ha in mente di fare questa questo lavoro deve abituarsi all'idea che ti arriveranno tanti no e tanti progetti che tu dici a questo progetto è bellissimo e funzionalissimo arriverai che ok no cestinalo o mettilo da parte perché così cioè il lavoro è fatto così e poi vorrei dire il blocco del scrittore secondo me si risolve scrivendo sembra sembra una stronzata però non lo è non lo è perché quando sei in blocco tu devi scrivere un sacco di roba che poi ti farà schifo e nessuno leggerà perché è orribile però che piano piano ti rimetterà nel nel mood di tornare a buttare giù quello che hai in mente nel modo in cui tu vuoi guarda detto in un italiano terribile però esatto no no sono sono in imbarazzo perché mi sento un po scemo perché continuo a dirti hai ragione sono d'accordo sono d'accordo sembra che ti sto non so lisciando invece no sono davvero d'accordo tra l'altro questa cosa mi è successa questa settimana un ragazzo che mi ha scritto su instagram dicendo al blocco dello scrittore come come lo risolvo secondo te e io gli ho detto esattamente quello che hai detto tu eh sì cioè secondo me è l'unica scrivi però perché se ti lasci perché se ti lasci del tempo rischi addirittura di perderla l'ispirazione che avevi su quella cosa lì in particolare quindi c'è su vai buttati vai 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 scrivi più che puoi e l'ultima cosa che direi a un a qualcuno che ha questa follia di dirà voglio scrivere per per vivere o comunque per quello che si può fare è di non rientrare nelle due categorie di errori che io penso ci siano per le persone che si mettono a fare questo lavoro ovvero il cercare di rivedersi negli altri quindi scrivere solo per rivedere se stessi e al contrario di nascondersi dietro allo scrivere diventando cioè togliendo quella parte di creatività che sta nel tuo stile cioè tu crei uno stile unico e irripetibile chiaro che devi piano piano arricchire sempre di più sempre di più invece spesso e volentieri magari per paura di fallire la gente tende a creare uno standard che a tutti piacerà ma che non dice niente di te vero esatto perché soprattutto per un emergente insomma il lettore se vuole leggersi un grande autore alla libreria appunto piena come ce l'abbiamo io come ce l'hai tu soprattutto come ce l'hai tu però l'emergente l'emergente insomma un autore che un lettore che va a scegliersi un emergente perché vuole leggere qualcosa di nuovo qualcosa che non è mai stato letto in una modalità perché poi le storie in realtà sono già state più o meno tutte raccontate però è il modo lo stile non è che bisogna creare chissà che cosa basta anche l'esperienza di ciascuno di noi che uno dice vabbè ma io che esperienza vuoi che abbia sono un emergente che cosa valgo io invece no non bisogna assolutamente cadere in questa non so come chiamarla insomma il sbaglias cognitivo possiamo dire esatto esatto bravo grazie esatto no ma cioè è veramente essenziale cioè nel senso la cosa più la cosa più bella è proprio il fatto di creare qualcosa che viene riconosciuto subito cioè che sia che perché sicuramente sarà sia in positivo che in negativo perché c'è sempre la gente che non apprezzerà quello che scrivi e tutto quanto però la cosa essenziale è che si ricordi che l'hai scritto tu secondo me vero 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 guarda c'è Danny che ci dice ben detto buttarsi sullo standard con lo scopo di piacere a tutti è una battaglia persa in partenza assolutamente sì sono perfettamente assolutamente guarda io io insomma abbiamo detto mezz'ora ma in realtà abbiamo fatto i nostri 40 minuti siamo abbiamo sforato però però e non l'ho sentiti eh cioè io pensavo fossero 20 minuti no no però siamo stati molto bravi cioè tu sei stato molto bravo in realtà io non ho fatto niente io ti ho no no cioè se sono qua è perché tu hai se sono qua è perché tu hai creato qualcosa di affidabile che la gente vuole guardare come vediamo dai commenti grazie comunque io volevo chiederti a questo punto una domanda molto importante cioè dove possiamo trovare il tuo libro allora gli elenchi sono tanti nel senso che comunque sia la mia casa editrice utilizza tanti tanti modi diversi io dico sempre sia il sito di pav edizioni che si trova sempre se si vuole amazon ibs feltrinelli eccetera però sostanzialmente quello cioè io spingerei tanto ad andare a conoscere la casa editrice a conoscere pav edizioni e ciò che pubblica e e prendere anche da lì perché comunque sia sosteniamo queste piccole realtà e danno la possibilità a noi scrittori di di esprimersi è una bellissima casa editrice tra altro pav ce la conosco l'ho incontrata in varie varie occasioni vari stand lo so come al al salone del libro e sì 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 no 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 ora ci sono molto 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 bravi hanno un sacco di proposte interessanti quindi se lo dico senza interesse perché io ho pubblicato con edikit quindi certo non ha nessun interesse però sinceramente hanno un sacco di no sì poi loro sono molto impegnati sono molto come si dice cioè sì sì si danno proprio da fare cioè si danno il cento per cento è quello che fare quindi non potevo non sostenerli anche adesso sì 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 ok allora qui abbiamo detto praticamente tutto non so se vuoi aggiungere abbiamo detto tutto abbiamo detto una parte che si può dire in in una mezz'ora scarsa però se vuoi aggiungere tu qualcosa allora mi aveva allora nel nel grande nel grande piano segreto della scaletta mai rispettata c'erano anche le le ispirazioni ecco bravo guarda c'è danny tra l'altro che dice ci dici qualcosa sui racconti in sé quello che sei più affezionato ah no ok quello che proprio vorresti venisse letto però prima facciamo le ispirazioni hai ragione facciamo le ispirazioni che sono interessanti ok allora allora sarò banale nel senso che i grandi sono quelli e tutti ce li hanno sott'occhio e non c'è dovrei stare qui mezz'ora a dirgli tutti quanti però dirò quelli in particolare che hanno segnato un pochino il mio stile e sono sicuramente allora per quanto riguarda i personaggi e la creazione di un pensiero di una di una psicologia dei personaggi io penso che steven king sia proprio il il vate di questa cosa cioè nel senso uno che riesce a scrivere di un cane con la rabbia e il racconto diventa un racconto di tante famiglie insieme delle loro interazioni tra di loro cioè è una roba che io non riesco a concepire cioè è fantastico è un dono è veramente un dono e per quanto riguarda l'ambientazione già già l'ho citato lovecraft è inarrivabile cioè nel senso penso che banalmente qualcosa c'è un autore che riesca a creare un ambiente sonoro un ambiente visivo un ambiente anche solo proprio della sensazione che riesce a far star male chi legge le i suoi racconti anche se non conosce per niente l'autore secondo me è una è poco al di sotto della magia vero e quindi dal dal punto di vista degli degli scrittori sicuramente loro due sono i più quelli da cui ho attinto di più e se invece devo parlare anche di fumetti perché comunque non posso parlare di libri senza parlare di fumetti io penso che gar tennis e alan moore siano quelli che più ho nel tempo cioè si dice sempre questo qual è il tuo autore preferito qual è il tuo film preferito è una domanda a cui non si può rispondere perché sinceramente io cambio 300 film preferiti al mese quindi è impossibile questa cosa però la risposta più completa è cioè il migliore è quello che riesce a restare per più tempo nella tua immaginazione e non stancarti mai e quindi cioè alan moore con vi per vendetta con watchman che io penso che watchman sia uno dei punti più alti della letteratura in generale è un è un è una cosa a sé stante proprio è un creatore di cui di storie inarrivabili invece gar tennis che ricordo è il lo scrittore tipo di the boys per dirle una lui è proprio cioè secondo me è uno che veramente si diverte tanto 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 con quello che fa cioè lo vedi c'è una passione nelle cose che la vedi e dici cazzo è abituato a parlarne coi suoi amici probabilmente cioè io lo vorrei un amico come lui che mi racconta queste cose piace the boys allora sì sì allora devo chiederti devo chiederti il tuo personaggio preferito adesso subito però la domanda seria all'ultima domanda seria su fumetto o serie tv dimmi tu dimmi tu ok allora per quanto riguarda il il fumetto io penso che la risposta sia a butcher cioè baccere troppo troppo cioè ed è e sono tutti sopra le righe sono tutti bellissimi patriota è fantastico però nei nel fumetto baccere è una spanna sopra gli alti secondo me e invece per quanto riguarda la serie tv a me è piaciuto tantissimo come hanno con l'attore di patriota è stupendo anthony star è stupendo veramente e mi è piaciuta la scrittura invece dei personaggi di yui e di starlight a me è piaciuto molto come l'hanno cambiata perché nei fumetti era un po diversa e secondo me era un po più limitata da certi punti di vista nella serie sono riusciti a renderla cinematografica e hanno fatto un gran bel lavoro secondo me è vero è vero è vero è vero authority planetary sono una spanna sopra dei boys è vero sono molto belli ci sta ok quindi arriviamo alla domanda che c'eravamo lasciati indietro alla domanda seria aspetta aspetta prima di arrivare alla domanda seria king ha scritto tantissimi e bellissimi racconti ma alcuni anche bruttini lovecraft l'ho scoperto 35 anni fa quando ero giovane grazie a un mio buon amico che non c'è più che era una grand master del richiamo di cthulhu e avessi guarda che lovecraft ha fatto ha ispirato tantissimi scrittori giocatori master artisti pittori ma ne ha ispirati registi di chi più ne ha qui ne metta e concordo anche su king su king in realtà perché comunque cioè io non cioè sono oggettivo nelle cose di solito e king ha scritto tante cose che non negano alla sua altezza e secondo me da un certo punto in poi avrebbe anche potuto fermarsi però cioè lui veramente ha così tanto da dire che sarebbe un peccato che non lo dicesse anche se quello che fa non è al suo livello certo ok e quindi chiudiamo chiudiamo con questa domanda finalmente danny ti rispondiamo anzi ti risponde ci dici qualcosa sui racconti in sé qual è quello a cui mi sia affezionato quello che proprio vorresti che venisse letto allora è difficile da dire nel senso che ovviamente essendo tutti racconti brevi non ce n'è uno in particolare che dico ah vorrei che questo fosse letto soprattutto prima degli altri eccetera posso dire che i segreti della collina che tra l'altro è il primo racconto della raccolta è a una parte un pochino speciale nel mio cuore perché è il primo è il primo che ho creato il primo che ho tra l'altro è uno degli ultimi che ho finito cioè è molto particolare questa cosa cioè l'ho creato e l'ho cambiato così tante volte che è diventato quasi un'altra cosa rispetto a quello che avevo creato all'inizio cioè io ero veramente partito da una scena e avevo scritto solo quella e invece ci ho creato attorno tutta una storia molto 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 più più ampia rispetto a com'era quindi quello ci consigli cioè ci consigli io consiglio di leggervi tutto il libro però però tra le cose sicuramente quello diciamo che è quello che a cui tu sei più più affezionato sì 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 anche perché tra l'altro quella era stata la mia prima pubblicazione su un'antologia di racconti della mia università sì avevo partecipato a un avevo partecipato a questo a questa non so neanche come dirlo cioè era un concorso possiamo dire un concorso in cui tutti quanti si potevano potevano mandare delle dei racconti eccetera io ci ho partecipato tanto per non non avevo neanche l'idea di scrivere prima l'ho mandato cioè di scrivere lavorativamente parlando ovviamente non di scrivere in generale ma mi hanno me l'hanno accettato subito e l'hanno pubblicato in questa raccolta di racconti e mi sono detto ok ok da si può partire da qualcosa bene beh vedi che anche da una da una cavolatina perché può anche queste cose qui comunque creano ispirazione o comunque sono la spintarella che aiuta un uno scrittore quindi assolutamente assolutamente ok allora io ti in quanto abbiamo sporato di questo mi mi scuso però ti abbiamo tenuto un po in ostaggio però no no ma è bene sono sempre belle le chiacchierate così detto un sacco di cose interessanti poi era una live che avevamo lasciato in sospeso da molto tempo quindi ci stava a recuperarla assolutamente e sono contenta che hai aperto tu le danze sulle live di scrittori perché hai detto tante cose molto interessanti sinceramente ce lo penso sinceramente e intelligenti che in cui io mi rivedo molto quindi sono tanto contenta che mi hai dedicato questi questi questo pomeriggio insomma questa serata grazie a te di avermi dato questo spazio ma figurati e allora ricordiamo che potete trovare le ombre del crepuscolo sul sito di pav edizioni poi dopo comunque eccolo lì e potete trovarlo lì potete trovarlo principalmente appunto come suggeriva prima andate sul sito della della casa editrice perché poi lì c'è tutto il catalogo che sicuramente vale la pena almeno di darci un'occhiata però potete trovarlo anche su amazon su feltrinelli insomma sui vari store senza problemi sì 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 esatto e detto detto questo io vi ringrazio tanto per ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito e tutte le persone che ci seguiranno poi indifferita se avete altre domande magari volete scriverle in chat sicuramente poi dopo federico o io insomma dipende a chi rivolgete la domanda vi rispondiamo più che volentieri a me piace molto questa cosa di rispondere ecco scrivete pure contattate hai qualche contatto social allora in realtà i miei social sono ancora quelli personali non ho ancora ho la pagina facebook però non ci non ci pubblico tanto quindi cioè su facebook federico james motta su idem su instagram e vorrei tenere questa chicca per la fine stiamo pensando con un amico di aprire effettivamente un un canale twitch ah ok non non monotematico sulla scrittura però ci vogliamo buttare dentro qualcosa di scrivimi scrivimi allora il il contatto del canale che appena lo creo te lo dico a iscrivermi subito va bene va benissimo grazie grazie mille grazie a te grazie a tutti quelli che hanno perso tempo per ascoltare le mie storie spero che qualcuno mi mi dia qualche recensione perché veramente io le adoro quindi datemi tutte le recensioni che potete se volete esatto è importante quindi mi raccomando scriveteli poi dopo appunto qui le domande ma in privato anche se avete letto se leggerete il libro insomma fa sempre piacere a un autore come stavamo dicendo quindi fatelo mi raccomando buona serata a tutti ciao 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 ciao